Musica Musica Chi sei tu? Che bello è la portola il suo figlio del mio trago! No, 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 mi credo è ilustrissimo che la tua parola è stata mia! Eeeh... Chiii! Eeeh... Chiii! Si vuole la cinta che è la mia, mangia poco a stanno dito e vuol dire che è sempre tassito! Smottila di lamentarti! Con i tuoi lamenti mi fattori ancora più fame! La prego, non mi fuggi tra pocarmoni! Cosa farei a pocarmoni? Sono così magro! E poi... Cosa mi dirà mio padre se io morirò? E' così vecchio, non può stare da solo! La prego, mi dispagni il signor mangia poco! La prego! No! No! Bravissimo! Buongiorno! 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 Va bene! Al posto come si può appruciare nel fuoco a Lachino! no, no, lasciatemi all'erchino no, l'erchino pure lui mangia non fa il venire a farlo non si può beh, faccio una cosa oggi voglio fare così risparmi anche il mio cugino ma io ho fame e oggi non mangi e oggi non mangi e allora metterò tutti i miei murattini nel fuoco no, allora non mettiamo te nel fuoco forza ragazzi miei aiuto grazie a tutti